Ehi la ciurma, siamo pronti a dichiarare contro il nostro nuovo nemico Voglio solo vedere... qua ci ha dato Sabaste, ok, molto bello, tanto allegro, ok Sono felici, qua stan bene, boh, mi auguro di sì Ma loro pian pianino si stanno riducendo E se tutto va bene, magari riusciremo ad arrivare qua sotto senza bisogno di fare guerre Semplicemente Intimando guerra Allora, muoverei queste truppe là e... Perché non mi fa muovere questa? Perché il comandante è sleale, eh Mannaggia che possa morire questo qua Non voglio prendere un altro di corruzione Posso staccare delle armate da lui? No No, perché no? Che fastidio questa gente non leale Mi auguro che adesso quando dichiareremo guerra entrano insieme a noi Quanto siamo tra l'altro come numero di prevence? 379 di città Ce ne mancano ancora poco più di 100 111 Allora, pronti? Vada Farei poi anche uno split army Per andare in là più in fretta Come te dire? Se voglio vedere se i 28.000 si muovono Non sembra che abbiano intenzione Ma guadagni fedeltà almeno Dovrebbe guadagnare fedeltà, no? No, perché tante corti leali Perde lealtà ogni mese Con queste posso andare qua? No Posso chiedere il passaggio Ok, ottimo Mi hanno promesso l'accesso Allora Local arresto? Non ci piace Perché il governatore di Siria perde? Perché è già sempre lui, eh È sempre lui, vero? No, sono due diversi? E questo è un mio fratello E questo è l'altro mio fratello L'altro del Siria Prende l'altro Mi spiace ragazzi miei Ma Non posso fare tutto In questo momento Mi è davvero Difficile Ho 28.000 uomini Là che ho creato E non mi servono a niente Non ci sono forti La provincia dove finisce? Là finisce la provincia Quella è la capitale Della Ramea però Questa qua È dura euro Posso Eh, niente Mi sa che questa guerra Era proprio importante Per noi In modo da poterci Sbloccare un po' Cattino E espanderci di qua Senza pensare Subito alla friggia Ottavo e nonno strato Se nonno strato Sì perché l'abbiamo appena spezzato Quindi non ha nessuno Questo qua Facciamo che No, niente Prendiamo la nave Non c'era una nave Da queste Non c'erano Le mie Due navi Una è qua E l'altra E qua No, mi servono quelle di su Effettivamente Queste per andare A prendere loro Perché Vadi Allora Andiamo con Andiamo qua In queste Dovrei mettermi Delle shortcut Da tastiera Tra l'altro Non mi ricordo Come si fa E almeno Su Europa Universities C'era un modo per No, cancella C'era un modo per Dirli Allora Vediamo un attimo Nell'opzione Settings Graphics No Message Settings Achievement No La scendete in giù Di là Tutta questa roba L'abbiamo tutta Conquistata Ma perché Mi dice Perché Il difensore Controlla Aramea Ce l'ho io Aramea C'era dei pirati In mare carpazzico Stanno andando In mare carium Scusate Non ne ho più chiesti Pirati Prima di tutto Dove stanno andando Mare carium Ma è questo Ok Le vengono sfasciati Adesso bisogna Che questa Entri in porto Perché così Sistemano Un attimo Nel mentre Allora No Io voglio andare Dove suono Adesso Qua No Qua prendo un attrito Dappertutto Sì E niente Prendere un po' di attrito Non so che dire No Andate là sotto Se gli altri vanno sopra Andate sotto Non mi sembra senso Ma comunque È bugato Perché Sì Caramea Ma ce l'abbiamo Aramea È praticamente Tutta in mano nostra Aramea E finisce qua Cioè Manca solo quel pezzetto Ci abbiamo Tutta noi E comunque È proprio Buggata Questa cosa Allora Arabian Desert E stanno andando A Coloera Quindi Forced March Verso Coloera E vediamo Come si evolve La situazione Allora Ci arrivano Il 9 giugno E noi Arrivemo Molto dopo Qua al 3 luglio E dopo Un cropeggio Cribi Ci sfasceranno Oloera Ma Oloera Possiamo fare un forte Per caso Eh Non possiamo Sperare In questo momento Allora Adesso Le picchiamo Voglio solo Vedere Dove sono andate Queste altre No Questi 20.000 Ah Queste ci sono No State qua Perché se no Prendiamo troppo Trit Quali sono Della rivolta Sereucida Ma l'impero Sereucida Dove? Là Ok L'impero Sereucida Ancora in guerra Con qualcuno Sereucida Ehm Guitandros Cosso Dodeca Scornos Decapolis Sagartia E Lager No No Qua ho fatto Il marketplace Per migliorare La storia Ma mi sa che Oh Distruggi il marketplace E fai un forte Pi che altro Così almeno Da registro Un po' di più Perché se continuano A sfondare Di là È proprio Un problema Qua continua A dirmi Che sto perdendo Punti Sì Dice che loro Hanno Aramea Ma non è vero Che hanno Aramea Ah Nektanebo È morto Era il capo Delle navi Là Sono scornati Nektanebi No Allora C'è bisogno Di Bitsaddu O Bitsagimi Allora Bitsaddu Mettiamo questo Che fa più schifo No Però abbiamo Aiuto di qualcuno Che sia almeno Un po' leale 38 Non farà quello Che gli dico io Ma Non è che può fare molto Ok Ma ancora Solo più Bitsaddu Da mettere a posto Ah Quello era Sta morendo di fame Perché Sì Allora C'è il capo La Che Ah no Ho bisogno Di un nome Eh Cosa facciamo Facciamo Un Research points Sì Ci sta Possiamo fare Delle nuove Invenzioni Sì Però Cosa abbiamo Di nuovo Nulla Di particolarmente Entusiasmante World's Curved Cost Ah Più Una di Voluntive Reputation National Population Growth World's Curved Cost Why World's Curved Cost È morto Il governatore Di Della Nubia Ah Andiamo in qua Nel Impero Adesso Stiamo Guadagnando Ce l'abbiamo Noi Ok Provincia di Aramea Sì Cosa vuoi Per darmi La Eh A questo non posso Perché non è adiacente Sì Sì Posso Ci sono C'è tipo Un compra No Non c'è un compra Forse ci sono Un vendi Provincia Allora 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 Manca Qual Governatore Chi Mettiamo Ah Uh Questi sono Dei buoni Governatori Biccia 2 Non mi è molto fedele È un po' Corrotto Meglio questo Che non è Questo Che non è Così Corrotto O questo Vai 39 Meglio Shame over Governor Oddio Chi è questo Governatore Da Cirenaic Cosa vuole Cosa Rischiamo di perdere Popolarità Mi dispiace Ma ho bisogno Di mantenermi Le province fedeli Purtroppo E più ci spandiamo Più sarà complicato Questo discorso A voi conviene Unirvi Insieme No Andate Scusatemi Andate Anche tu Vabbè Niente C'è uno Scorched Earth Ma non c'è un Posto decente In sta zona No Ok Adesso non hanno più Trito Per fortuna Restate qua Aspettiamo Che succeda qualcosa E poi torniamo a casa No Alla gotta Povera donna E beh Sta invecchiando D'altronde La nostra antigone La figlia Come sta Di costrata Non è male 27 anni Molto Carina In forma Facciamo un matrimonio No vabbè Sì Facciamo un matrimonio Perchè diventi troppo vecchia Nostra figlia Allora Vediamo qualcuno Che ci sia leale Se governante No È troppa roba Allora Non mi piace Questo è vecchio Perciblogaride No Sì Non è un Granché È lui Però Alla distenteria Però Dai Questo non sembra male Viene da Gaza Un illadide Sì Sono una buona famiglia Con quegli illadidi Vai Vada Anche la figlia è sposata Adesso E ci apprestiamo Anche a Concludere Questa guerra Qua Con l'impero Sarevo Ci sono d'accordo Adarci sta roba qua Sì Sì Vada Ok No Era veloce Senza troppi problemi No Tu L'amera Rabide Chi era Ah Ci manca un governatore Qua della Ramea Perché non avevamo Effettivamente Nessuno Mettiamo BitShadow Lui Lui è della zona Ci manca uno Ierofante Era lo Ierofante Quello che c'è morto Chi mettiamo Mettiamo Questo Che ho della gente Che così Mi è così poco fedele Boh Non mi è preso Proprio niente Di Aggressive Expansion Questa zona qua Oh con chi sono alleati Dove sono in guerra Con La Mesopotamia Revolta Che sono Quelli là Uh È una super grande Rivolta Ha pochissime Truppe In guerra Contro l'Albania E la Mesopotamia Revolta Però è alleata Con Corduene Vada Scusatemi È alleata Con Corduene E Adiabene Adiabene è quella Come si è messi Adiabene 23 Ok Non è gravissima È garantita Da Kadiazu Chi è Kadiazu Eh scusa Questa roba qua Kadiazu Scusami Ma chi siete voi Ha un 54 Corti Ma sta moreno Cioè sono meno due di stabilità Che cavolo Sono una Tribù migratoria Mmm Ah potrebbero unirsi L'Armenia E la Comisene E la Comisene Scusami Sono alleati Di Codio Ezoi Comisene Sarebbe una guerra Molto molto ampia Per Poca roba Diciamo che Diciamo che in questo momento Non ci serve Avrice di Rodope In traccia Che c'è solo quella roba là Viene le scorned family I timolidi C'è un timolide qua Sì Benissimo Andiamo lui Tanto è una zona Di poco interesse In questo momento Oddio No Guerra tra traccia E macedonia Sì Mi sa che dobbiamo andare Contro la traccia In questo momento Eh sì Sarebbe la cosa più sensata Andare contro la traccia Davvero molto sensata Allora Facciamo una cosa Voi siete a posto Quindi appena escono in mare Mandiamo questi sopra Poi chiudiamo il video No E' morto anche Chi è morto? Ah Nel nostro ricercatore Di oratorio Ci sono le scuole dei femmini No Quindi metterei uno Molto potente Ogari Un'eugaride Vada E' anche un bel ragazzetto Ehm Abbiamo delle robe nuove Che abbiamo sbloccato E no Mi sembra Vediamo un popularity gain Che qua non Non fa mai male Ehm Nulla Dobbiamo prepararci La guerra contro la traccia Allora mi sa Sarà una guerra Molto molto complicata Quindi mi sa che Durerà per un po' di episodi E che Per questo Può essere tutto What? No Di nuovo Una Frigian Revolte Eh sì E niente Non si può stare tranquilli Un attimo Che qua Esplode tutto intorno Beh Ma Devo dire che Ci sono buone prospettive Per il futuro Cartagena si espande Roma si espande anche Ma Non è poi così forte Al momento Nessuna delle due È poi così forte Se non Per Espansione territoriale Ecco Quindi queste Le facciamo Facciamo che Mandarle là Così Almeno non ci Dimentichiamo Di tutto Io vi invito Lasciate un mi piace Iscrivetevi Per cosa ne siete fatte Lasciate un commento Qua sotto Per dirmi cosa ne pensate Di come sta andando La serie Di cosa vorreste vedere Nel prossimo episodio Ciao a tutti Buona giornata Ciao a tutti